Leonard Peltier è in carcere da 45 anni ormai, diversi dei quali trascorsi in isolamento, condannato al termine di procedimenti giudiziari molto dubbi, per una sua colpevolezza altrettanto dubbia, anzi qualcosa di più che dubbia. Ha più di 77 anni, è affetto da svariate malattie croniche e l'unico rimedio sarebbe, dovrebbe essere un provvedimento di grazia. Che Amnesty International ha chiesto a vari presidenti degli Stati Uniti e che continua a chiedere anche all'attuale Joe Biden. Un provvedimento di grazia per Leonard Peltier.